L'altra, quella che è una misura, ma sai che è il più facile, arrivo dalla tavola forte, con quei movimenti, sulle onde grosse e veloci, perfetto, ma dopo un turn, su proprio il colpo e quasi slesciava qua, così tornavi tu, prendi velocità, parse qui davanti, c'era il fai, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so. E' un asso. Ma l'ha scatto ieri che veniva. Oddio! Maglietta croce. Stai stupendo. No! Pesto di cazzo. Questo figo è fatto all'uncino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.